Buongiorno a tutti e benvenuti nella diretta telegram su ehm caffè e mercati un saluto da Samuele Molano che vi augura un buon martedì ventidue novembre. Manca quasi un mese a natale quindi entriamo nel periodo natalizio ma soprattutto periodo conclusivo di eh fine anno dove appunto eh diciamo molti istituti finanziari sono prossimi a tirare le somme di questo anno duemila e ventidue quindi poi anche queste somme impatteranno su sui mercati. Eh in questo caso oggi non andremo ad analizzare principalmente gli indici ma aggiorneremo l'operatività sulla sterlina siccome l'altra settimana abbiamo preso diverse posizioni cioè abbiamo preso posizione su a rialzo sul cambio valutario JPP Audi e quindi andiamo a vedere un attimo un aggiornamento e vediamo anche un attimo il fatto che potenzialmente si può rientrare qualora dovessero esserci i eh presupposti. Vedete appunto nello schermo che eh a grafico di Kimura Trading c'è appunto JPP Audi su time frame daily noi siamo entrati in posizione da 1,76 quindi siamo largamente in profitto da perché adesso siamo 1,78,500. Siamo eh entrati eh in parte anche a 1,77,80 abbiamo già preso una parte di profitti eh quando abbiamo raggiunto questa zona qui quindi in prossimità di questo livello qua eh abbiamo preso profitti e ehm ora cosa ci si aspetta? Beh vedete che comunque l'impulso rialzista è composto da eh cinque candele bullish quindi ovviamente ci può essere una pausa del del della spinta no rialzista per aver vedere uno storno e poi una prosecuzione dei nostri dei nostri prezzi che vadano appunto verso il nostro target che come abbiamo già detto precedentemente è degli 1,82. Questo movimento può verificarsi tranquillamente e tranquillamente entro la fine di di novembre però è giusto che appunto ci sia potenzialmente una pausa per poi ripartire. Intanto lo scoglio più grande l'abbiamo superato nella giornata di venerdì barra ieri perché? Perché la resistenza eh a livello statico in area 1,77,80 questa delineata dalla linea nera vedete che era il massimo decrescente precedente. Il superamento di quest'area qui fa switchare il trend da eh trend potenzialmente ribassista con massimi decrescenti e minimi decrescenti in un trend rialzista. Quindi adesso che cosa ci si può aspettare? Ci si può aspettare anche uno storno dei prezzi per poi proseguire a rialzo. Quindi è del tutto fisiologico che il prezzo possa tranquillamente scendere e tornati in prossimità di questo livello qui degli 1,77 e 800 potenzialmente possiamo anche valutare nuovi ingressi rialzisti. Ovviamente come lo facciamo? Lo facciamo con eh il breakout channel su un time frame orario eh giù come abbiamo proprio fatto l'operatività sulla rottura di quest'area resistenziale a rialzo possiamo fare anche eh il ritest. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso potenzialmente possiamo tranquillamente scendere ma noi non ci siamo posizionato short perché non avrebbe troppo senso a meno che non si operi su un time frame veramente veramente piccolino. Dall'altra parte noi ci aspettiamo in prossimità degli 1,77 e 800 una creazione di un box eh prossimo molto simile a questo quello che appunto aveva poi superato l'area resistenziale semplicemente lo trasleiamo più avanti quindi in prossimità di questo livello qui che vada a crearsi un supporto simile a questo e al posto poi di continuare a ribasso e rompere a ribasso che venga appunto conclusa la potenza la forza ribassista e venga tramutata in forza rialzista quindi che i prezzi arrivino su questo livello qui vadano a laterali e poi ritornino a salire. Questa è l'operatività che andiamo a monitorare in questi giorni in queste in questa settimana perché per come sta scendendo potenzialmente già oggi possiamo raggiungere il livello degli 1,77 e 800 e poi magari tra domani e giovedì possiamo vedere la conformazione che speriamo e dentro la fine della settimana possiamo vedere appunto questo storno rialzista quindi questa inversione no sul che vada poi appunto sul ritest e riparta questo è quello che ci ci si aspetta per oggi ragazzi io vi ringrazio per l'ascolto fatemi sapere come appunto avevo detto la scorsa settimana vi avrei aggiornato su questa operazione è un'operazione che sta andando molto molto bene e ci ha dato già più modi per entrare se appunto riusciamo a prendere anche questo ingresso sarebbe il terzo ingresso che prendiamo su jpp aud e io credo che tra tutti i pair con la sterlina e questo sia quello più interessante quello più sottovalutato quindi monitoriamo almeno dal mio punto di vista questo è il pair da monitorare ragazzi io rinnovo i saluti ci vediamo domani con i con l'appuntamento di caffè mercati e per il resto tutti i vari appuntamenti di investire.biz che trovate sul nostro sito ciao a tutti e buona giornata statemi bene